Ciao a tutti vediamo come creare un account e canale su Twitch è molto facile ci basta andare su twitch.tv letteralmente qua avete accedi o iscriviti noi siamo nuovi facciamo finta facciamo iscriviti dovete selezionare un nome utente dobbiamo mettere anche password confermare la password data di nascita e numero di telefono mi raccomando che la verifica è obbligatoria altrimenti possiamo utilizzare l'email vedete tenterà Twitch di farvi usare il numero di telefono come verifica obbligatoria voi semplicemente utilizzate indirizzo email qua vedete usa indirizzo email perfetto quindi niente numero di telefono ci stiamo creando l'account ecco qua risolvere questo puzzle così sappiamo che sia una persona reale va bene mi fido di te scegliere il pipistrello aia eccolo qua pipistrello molto bene scegliere il pipistrello lo selezioniamo ancora mi ha mandato un codice di verifica alla mia mail perciò lo vado a prendere lo inserisco lo inserisco ecco qua me l'ha trovato e adesso io ho un bellissimo account su Twitch scegli alcuni interessi va bene faccio finta di sì chiudo e noi direi che siamo a posto abbiamo il nostro bellissimo canale se io vado qua e vado sul mio canale io accetto i cucchi e vedete che ho un canale quindi nel momento in cui avete un account su Twitch avete anche un canale da qua in poi possiamo andarlo a personalizzare cominciare a aggiungere la biografia programmazione e da qua cominciare a streammare se avete bisogno di altre guide su Twitch come collegare Twitch in giro fare live e via discorrendo non esitate a lasciare un commento che i video si fanno alla svelta io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao ciao